Da un anno a questa parte corro per Revolution, questa ditta che mi sostiene fornendomi il materiale adatto a queste gare di ultradistanza, devo dire molto particolare, composto in lana merino 100%, quindi totalmente naturale e questo secondo me è un buon punto di forza di questi capi. Si collega bene con il fatto della corsa in natura, della corsa in montagna e sono soddisfatto del materiale con cui partecipo alle mie gare.